Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, anche perché qui ci troviamo proprio alle spalle della chiesa di San Pio da Pietrelcina, dalla nostra emittente da Padre Pio TV. Parliamo di un passaggio legato alla presenza di Padre Pio da Pietrelcina a Pietrelcina. Chi ce lo racconta è proprio uno dei testimoni che hanno vissuto con Padre Pio nel periodo che, come ben sapete, ha trascorso Padre Pio a Pietrelcina questa strana malattia che lo ha costretto a stare nella sua terra natale, a stare a casa. Verso la fine del 1910, anno in cui Padre Pio è stato ordinato sacerdote, lo ricordiamo il 10 agosto lui venne ordinato sacerdote, a Pietrelcina questa misteriosa malattia lo costringeva a stare a casa, avvenne un episodio, un episodio di cui spesso non si parla tanto. Si tratta di un episodio legato alla chiesa della Madonna della Libera, come lo ha raccontato un testimone diretto, Don Salvatore Pannullo, succeduto poi ad un parroco, il precedente parroco, si chiamava Don Giovanni Caporasso, morì nel 1901. Ecco, chi è stato a Pietrelcina e vede quelli che sono gli ambienti, l'attuale sacristia non c'era, quindi ci si preparava, i sacerdoti si preparavano proprio alle spalle dell'altare, quindi ci si vestiva lì. Proprio una mattina Don Salvatore si fece trovare preparato con un tavolo però già all'interno della chiesa, accanto all'altare maggiore e su di esso tutto l'occorrente per la celebrazione eucaristica. Padre Pio andava a celebrare ogni giorno con Don Salvatore ma dopo alcuni giorni appunto chiede il motivo per il quale non ci si vestiva più dietro l'altare e quindi accanto all'altare maggiore e ne vuole sapere il motivo da Don Salvatore. Don Salvatore gli disse questo e lo scrive attraverso le sue memorie. Da alcuni giorni, caro Piuccio, dietro l'altare vedo inginocchiato il defunto arciprete Don Giovanni Caporasso che sta in devoto raccoglimento per tutta la tua messa e poi scompare. Questo stesso defunto arciprete era stato già visto anche nella piccola chiesa di Sant'Anna che allora era Santa Maria degli Angeli per quella che fino al 1906 fu la sede parrocchiale anche dello stesso Don Giovanni Caporasso. Anche Padre Pio prima di diventare frate lo aveva anche visto in quest'ultima chiesa ma di schiena per cui non lo riconobbe. Da allora Padre Pio dal momento in cui lo stesso Don Salvatore gli raccontò questo cominciò a celebrare tutte le messe in suffragio dell'anima del vecchio arciprete ma ci volle un mese affinché scomparissero le apparizioni di Don Giovanni Caporasso. Infatti dopo circa un mese nell'apparire l'ultima volta il defunto arciprete proprio disse questo a Don Salvatore. Salvatore ora io me ne vado e non vengo più stai tranquillo ma quanto è male e quanto costa caro non fare il ringraziamento dopo la messa. Don Giovanni Caporasso morì nel 1901 quindi per circa dieci anni eravamo nel 1910 era stato in purgatorio solo perché a volte non aveva fatto il ringraziamento dopo la celebrazione eucaristica.